Buon pomeriggio a tutti i fan di Mollerino Sport Channel, io sono Alfonso e sono qua per parlarvi della sesta prova della Coppa del Mondo di ciclocross che si è appena conclusa a Tabor in Repubblica Ceca. La prova di Tabor che ormai è diventata una classica per il ciclocross, in passato questo percorso ha ospitato anche i campionati del mondo e i campionati europei, da ricordarsi ovviamente i campionati del mondo sotto la neve dove a vincere nella prova maschile fu il campione di casa Vdenek Stibar. E con questa breve introduzione riguarda la storia di Tabor entriamo per parlare della prova delle donne Elite. Donna delle prove Elite che non ha visto una padrona diciamo per i 6 giri totali di gara, anzi si sono susseguiti continui attacchi ma comunque che venivano ripresi e si continuavano a creare dei gruppetti composti principalmente proprio dalle favorite presenti, infatti in questa prova erano presenti tutte le atlete più forti ad eccezione di Marianne Boss che si è presa un periodo di pausa per poi rientrare si pensa a dicembre e oltre a lei mancava la giovane francese Bourquier ma comunque non penso che avrebbe avuto un posto molto da favorita e assente anche la nostra Silvia Persico a causa di un infortunio ma ecco comunque tutte le favorite erano presenti. Quindi come abbiamo detto la prova si è sviluppata su 6 giri, erano presenti tutte le favorite, il percorso è il classico percorso di Tabor quindi comprendeva molte curve, qualche sali e scendi e soprattutto il tratto dove c'erano le sbarre, tratto molto impegnativo dove quasi tutte le atlete sono scese ad eccezione di Puck Peters, la giovanissima olandese classe 2002 che è l'unica che è riuscita a farle sulla bicicletta cosa che fra gli uomini è normale, fra le donne e non ancora, Puck Peters grazie anche alle sue drotti di mountain biker veramente è riuscita a guadagnare molto in quel tratto. Ciò nonostante la gara è andata alla campionessa del mondo e campionessa europea Lucinda Brand, veramente in condizione eccezionale si è diciamo risparmiata, ecco a metà gara ha deciso di restare un po' nelle vetrovie del sestetto, ecco nel sestetto che si era creato restando sempre in fondo per poi l'ultimo giro portarsi avanti e veramente sprigionare tutta la sua potenza per andare a vincere questa prova. prova che per gran parte ha visto davanti Puck Peters e Blanca Katavasche, Katavasche che correva diciamo quasi in casa visto la Repubblica Ceca, Tabor si trova vicino all'Ungheria, erano tanti tifosi per la Ungherese Ungherese che nella metà della gara, 3 o 4 gira ha provato ad allungare ma sfortunatamente non è riuscita e anzi ha concluso in sesta posizione quindi si ha provato a vincere ma questa gara come abbiamo detto non ha concesso fughe solitarie quindi ogni giro ci si ritrovava con questo gruppo di 6 set atlete pian piano ogni giro ecco si ricompattavano quindi le azioni solitarie sono state svantaggiate in questa gara Puck Peters ha concluso in seconda posizione quindi dopo comunque una gara sempre davanti, sempre all'attacco in terza posizione ha concluso Anne-Marie Worst che lei conferma il buon periodo di forma quarta Alvarado, anche lei non ancora l'Alvarado che tutti conosciamo, la migliore Alvarado si deve ancora vedere pian piano sta crescendo ecco ogni gara pian piano sta iniziando a salire di posizione e scalare ecco nella classifica Quinta ha concluso Denise Betsema, non una prova brillantissima, la sua anzi è partita male è sempre rimasta un po' attaccata al gruppetto ma non ha mai ecco fatto nulla di che Sesta Katawascher, settima Shirima Nanroi, anche lei terza fra le classificando il 23 dietro a Puck Peters e Blanca Katawascher, Shirima Nanroi che nei primi due giri ecco è stata molto davanti ma poi ha sofferto ecco nel finale in un calo ecco di prestazione quindi conclude comunque in settima posizione Shirima Nanroi che ricorda molto bene la prova di Tabor visto che l'anno scorso fu vittima di un gravissimo incidente dove lei aveva finito un freno a disco nel braccio tagliandola e era stata ecco diciamo che è stato un'infortunio abbastanza serio che però non le ha condizionato fortunatamente la carriera anzi è tornata ecco quella stagione si è conclusa così ma poi è tornata su strada e è ritornata quest'anno e le due settimane fa ecco è andata a vincere una settimana fa scusate è andata a vincere i campionati europei under 23 quindi ecco è tornata più forte che mai ottava Fem van Enfel la campionessa del mondo under 23 però non si è quasi mai vista e non ha mai fatto parte delle 6-7 atleti davanti quindi è con una gara un po' anonima la sua Inge van de Raiden nona e conclude la top 10 la canadese Rochette 13esima ha concluso la nostra Eva Lechner che nei primi giri è sempre stata davanti e dentro le 10 posizioni poi nel finale ha avuto un calo e ha concluso 13esima 15esima ha concluso a Zuffi 16esima Gaia Realini anche lei vittima di una caduta nei primi giri 30esima ha concluso Carlotta Borello 31esima Lucia Abramati 41esima Asia Vantone e 43esima Alice Papo molte le italiane visto che è una delle prove di Coppa del Mondo più vicine alla nostra nazione ecco quest'anno si è aggiunta anche la prova in Val di Sole quindi anche noi avremo la nostra prova in Coppa del Mondo però fino all'anno scorso era la prova diciamo più vicino a noi quella di Tabor e quindi da sempre c'è questa tradizione per le italiane, molte italiane partecipano in questa prova mentre brevemente nella gara Don Juniors come saprete ecco le immagini non ci sono si può seguire una live dove si possono vedere i tempi e i giri quindi non sappiamo bene cosa sia successo però come sempre a vincere è Rory Bergstedt, campionessa europea di ciclocrosser, campionessa del mondo su strada tutti la conosciamo ecco solita è sempre lei a vincere fra le donne junior seconda ancora una volta l'olandese Bentveld anche lei seconda ai campionati europei e terza invece troviamo bravissima la nostra Federica Venturelli anche questa volta ha dovuto rimontare come è già successo ai campionati europei e diciamo che questa grandissima rimonta è culminata con il terzo posto che la premia ecco di tutti questi sforzi visto che le tocca sempre partire molto indietro visto che non ha partecipato alle precedenti tappe di Coppa del Mondo quindi trovarsi comunque indietro in un percorso come questo pieno di curve non è per nulla facile quindi la sua è veramente una grande impresa che va celebrata diciassettesima ha concluso Beatrice Fontana ventesima Valentina Corvi ventunesima Elisa Vieffi e queste sono le italiane che hanno preso il via a questa prova di Coppa del Mondo Juniors spero che il video vi sia piaciuto mettete un like iscrivetevi al nostro canale e io vi lascio a Marco che farà il video per la prova maschile che si sta svolgendo in questo momento buon pomeriggio